Il sito... si mette da Solicani a Legia o se no comunque c'è amalaspezia.eu mi pare e lì c'è il punto di vista e questa invece è la tinta romana le presenze antropiche più antiche sono rappresentato da corta Villa Romana la decropoli che c'è è un po' di che l'ha legato diciamo a la città di l'uomo